Una dettagliata relazione dei vigili del fuoco è stata consegnata in procura e alla squadra mobile della questura di Avellino sull'incendio di Mampato nella notte tra lunedì e martedì scorsi a Rione Parco. Le fiamme partite da un camper parcheggiato aggredirono il prefabbricato pesante vicino dove abitano sei famiglie. Non sono state trovate tracce d'innesco ma l'ipotesi dolusa resterebbe comunque in piedi. Il camper, fermo da cinque anni e utilizzato come una sorta di deposito, non presentava indizi provocati da un eventuale cortocircuito come dimostra la condizione della batteria del veicolo trovata sostanzialmente intatta. Gli esperti fanno osservare che per dar fuoco ad un veicolo peraltro fermo da lungo tempo può bastare cospargerlo di liquido infiammabile che non lascia tracce. Il camper, come le altre tre auto andate distrutte dalle fiamme, sono di proprietà della famiglia di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti.